In studio Valentina Frasca. La Commissione attività produttive all'Assemblea regionale siciliana sta lavorando agli aiuti per il comparto agricole zootecnico in riferimento alla crisi idrica. Mentre in Commissione bilancio si sta analizzando l'inserimento dei fondi con 20 milioni per i pozzi e 10 milioni per foraggio e cereali. Presi in analisi anche gli emendamenti che richiedono la sospensione dei ruoli da parte dei consorsi di bonifica oltre all'indennizzo delle imprese evocate alla produzione di foraggio e cereali. Oggi l'ha data tanto attesa dunque dal comparto piegato dalla siccità dopo il rinvio della scorsa settimana. La regione infatti è tra le quattro regioni con il maggiore tasso di criticità con Basilicata, Calabria e Puglia e tra le dodici ha elevato stress idrico che più in generale vede in testa alla classifica le regioni del Sud Italia. E quanto emerge dallo studio Community Valore Acqua per l'Italia della European House Ambrosetti. Lo stress idrico è il rapporto tra i prelievi idrici totali e la disponibilità dell'acqua di superficie sotterranea. In Sicilia nel 2023 il tasso di stress idrico ha toccato il valore più alto 5 su 5. Diverse le proteste nei giorni scorsi da parte dei produttori ma anche da parte dei cittadini, in particolare nella provincia di Agrigento, con due prese di posizione in riferimento al comparto agricolo e zootecnico di Coldiretti e Agri Insieme. Il comparto attende risposte. Adesso, fanno sapere dall'Ars, si sta lavorando per far fronte alla crisi. E che l'agricoltura sia in grave crisi è penalizzata, lo certifica anche l'Istat. Il clima continua a penalizzare l'agricoltura. Nel 2023 la produzione e il valore aggiunto del settore, silvicoltura e pesca comprese, si riducono rispettivamente, dell'1,8% e del 2,5% in termini reali. L'occupazione registra una flessione del 2,4%, mentre il calo per la produzione in volume coinvolge vino, meno 17,4% e frutta, meno 11,2%, ma anche florovivaismo, meno 3,9%, olio d'oliva, meno 3%, attività di supporto, meno 1,6% e comparto zootecnico, meno 0,9%. Annata favorevole invece per piante industriali, più 10,2%, cereali, più 6,6% e attività secondarie, più 7,2%. E' quanto emerge dal rapporto Istat sull'andamento dell'economia agricola del 2023, confermando il trend di crescita dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli, più 3,9%, in particolare dei prodotti zootecnici, più 7,1%. Si riducono invece quelli di beni e servizi impiegati, meno virgola 2%, dopo i forti rialzi registrati nell'ultimo biennio. A livello europeo l'Italia si conferma al secondo posto per valore aggiunto e al terzo per valore della produzione. E di probabile matrice dolosa il rogo divampato ieri sera nella discarica a Bello Lampo, a Palermo. Si propende per la natura dolosa per orari e modalità in cui è avvenuto l'incendio divampato ieri sera nella settima vasca della discarica di Bello Lampo, a Palermo. E l'ipotesi avanzata, la DN Cronos, da Salvatore Coccina, capo della Protezione Civile regionale, sono proseguite infatti tutta la notte le operazioni di spegnimento nella discarica cittadina con l'ausilio del personale della Protezione Civile. Questa mattina sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco che con il personale RAP, l'azienda di igiene ambientale cittadina che gestisce la discarica, con i mezzi di movimento terra della stessa ditta, hanno eseguito le operazioni di interramento e raffreddamento. Una densa coltre di fumo nero ha invaso l'area sospinta dal vento verso la vicina cittadina di Capaci dove il sindaco Pietro Puccio ha emesso un'ordinanza invitando i cittadini a mantenere le imposte chiuse. Ulteriori valutazioni e raccomandazioni al ribadito verranno fornite tempestivamente. I tecnici dell'ARPA hanno monitorato per tutta la notte la qualità dell'aria e le concentrazioni tossiche. Ed è arrivata poco fa una nota della RAP, la società che gestisce la discarica, che fa sapere che tra circa un mese sarà installato un sistema di termocamere fisse in grado di lanciare appositi alert allo scopo di prevenire tali eventi incendiari. L'azienda fa sapere che in via cautelativa sporcerà denuncia alle autorità competenti segnalando alcune anomalie che si sono verificate nei giorni scorsi. Un anziano di 70 anni è rimasto ustionato ieri sera nell'incendio divampato all'interno della propria abitazione a Scicli e che pare sia partito da una candela. Fiamme nella tarda serata di ieri in un'abitazione di via Goito a Scicli. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri di Modica che hanno salvato l'unica persona rimasta bloccata in casa, un settantenne, e hanno messo l'area in sicurezza. Quando i militari sono giunti sul posto le fiamme erano alte e una densa nube di fumo fuoriusciva dall'immobile. Il povero anziano era riverso a terra, privo di sensi. I vigili del fuoco non erano ancora arrivati, per cui sono stati i militari a prestare le prime cure e a trascinarlo all'esterno dell'abitazione in modo da attendere l'intervento del personale medico. Al contempo hanno provato a spegnere le fiamme che avevano già avvolto parte dell'abitazione con l'utilizzo di un estintore, evitando che si espandessero a tutto l'edificio coinvolgendo quelli del vicinato. Sulla base degli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, con l'incendio, è partito da una candela lasciata accesa. L'anziano è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Modica e da lì, dopo le prime cure, trasferito in elisoccorso al centro Grandi Ustioni di Catania, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato ustioni sul 15% del corpo ed è ora in rianimazione all'ospedale Cannizzaro. Anche i carabinieri sono rimasti lievemente intossicati a causa dell'inalazione dei fumi. Guariranno in pochi giorni. Permangono gravi ma stazionarie le condizioni di Omaima Zawali, la 19enne tunisina sorella di Wajidi, il cui fermo è stato convalidato ieri per l'incendio della propria abitazione con il quale ha tentato di sterminare l'intera famiglia. La ragazza è sempre intubata ed è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Cannizzaro di Catania, ha ustioni su oltre il 50% del corpo. Continuano a preoccupare anche le condizioni del padre, Camel Zawali, ricoverato nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale civico di Palermo, sebbene il suo quadro medico sia leggermente meno grave di quello della figlia. Ancora nessuna notizia in merito ai funerali di Mariam e Samez, Zawali, mamma e figlia, vittime della furia, omicida del 29enne Wajidi. Le esequie non potranno essere fissate fin quando le due salme saranno sotto sequestro. È stata tumulata questa mattina nel cimitero di Favara la piccola Maua, la bimba di 5 mesi morta per malnutrizione durante la traversata del canale di Sicilia. È arrivata questa mattina col traghetto delle 5 a Porto Empedocle, la salma della bambina di 5 mesi che il 28 maggio è giunta cadavere a Lampedusa su una motovedetta della Guardia Costiera. La piccola è morta durante la traversata del canale di Sicilia insieme alla mamma, Fanta, 19 anni, e alla sorellina di due. Sul barchino, soccorso in acque SAR libiche dalla ONG tedesca SOS Humanity. L'ispezione cadaverica eseguita all'indomani nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana non ha lasciato dubbi. Maua, figlia di Guineiani, è deceduta non per annegamento o asfissia, ma per malnutrizione. Con lei, questa mattina, ha anche la giovanissima mamma, in stato di forte shock e ora assistita H24, ospite del villaggio Mosea da Grigento. La ricostruzione di quello che le è accaduto è agghiacciante. Questo è il secondo lutto che vive, perché erano partiti dalla Libia e durante la traversata, appena superata la Libia, c'è stato un naufragio e lei ha perso il marito. È ritornata di nuovo in Libia, dopo alcuni mesi, insomma dopo la nascita della bambina, perché era in gravidanza, e dopo all'incirca sei mesi ha deciso di ripartire, perché il sogno del marito era tornare in Italia, e quindi è ripartita da sola con il barcone, con la figlia. Arrivata a Porto Empedocle, la salma della piccolina è stata poi trasferita e tumulata nel cimitero di Favara, dove ad accoglierla c'era il sindaco Antonio Palumbo. Già quando tumuliamo delle povere vittime si spezza il cuore, quando sono bambini non riusciamo a trattenere il dolore, ma quando poi c'è presente una mamma, un familiare, che dimostra tutto il proprio dolore, ci fa reglettere tanto. L'ipotesi dell'omicidio resta aperta, se non si completeranno gli accertamenti tossicologici e sui tabulati del cellulare di Angelo Onorato, la pista dell'omicidio rimarrà del tutto aperta. Lo ha detto l'avvocato Vincenzo Lorè, legale della famiglia di Onorato, l'imprenditore trovato senza vita lo scorso 25 maggio, dalla moglie l'eurodeputata uscente Francesca Donato. L'avvocato ha poi aggiunto, chiederemo comunque che venga verificata anche l'ipotesi dell'istigazione al suicidio. Sono organizzazioni mafiose in fase di trasformazione, quelle venute fuori dalla pubblicazione della relazione della DIA relativa al primo semestre del 2023. Le organizzazioni mafiose, da tempo avviate, ad un processo di adattamento ai contesti socio-economici che mutano e alla vantaggiosa penetrazione nei settori imprenditoriali, stanno implementando le loro capacità relazionali, sostituendo l'uso della violenza con strategie di silenziosa infiltrazione con azioni corruttive. È uno degli elementi emerso dalla pubblicazione della relazione della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, nel primo semestre del 2023. Questo dato è stato dimostrato dalle numerose indagini di contrasto a condotte nell'ambito di accaparramento da parte dei sodalizi mafiosi di appalti e servizi pubblici e dall'altro dagli omicidi commessi in contesti di mafia e dai sequestri di armi. L'uso della tecnologia assume un ruolo determinante per l'attività illecita delle organizzazioni criminali che sempre più spesso utilizzano i sistemi di comunicazione crittografata, le applicazioni di messaggistica istantanea e i social. La principale fonte di redditività dei cartelli criminali a livello transnazionale continua ad essere il traffico di droga. Significativi e naturalmente preoccupanti anche i segnali dell'inserimento delle consorterie nella gestione degli enti pubblici. E di fatti non sono mancati nel primo semestre del 2023 i provvedimenti di scioglimento per infiltrazione mafiosa di tre amministrazioni comunali in Sicilia, di due in Calabria e una in Puglia a dimostrazione di come si ha ancora il contesto territoriale del meridione quello maggiormente permeabile. Traffico illecito di rifiuti i carabinieri di Bagheria hanno eseguito cinque misure cautelari e confiscato beni per 800 mila euro. Vasta operazione dei carabinieri della compagnia di Bagheria contro il traffico illecito di rifiuti eseguite cinque misure cautelari emesse dal GIP di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Le indagini scattate a dicembre del 2022 hanno riguardato un'impresa che avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente di edilizie e di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi ma che invece nei terreni di sua proprietà aveva costituito una vera e propria discarica abusiva. In particolare in soli due mesi di monitoraggio documentata la presenza di circa 1.400 tonnellate di materiale inerte. stimato un giro d'affari di circa 15.000 euro al mese. Per i responsabili della ditta sono scattati gli arresti domiciliari tre obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria sono stati disposti invece per gli autisti dei mezzi pesanti e dipendenti dell'impresa. Disposto anche il sequestro preventivo di circa 10.000 metri quadrati di terreno della ditta sette autocarri e 2.000 escavatori. I terreni e mezzi pesanti impiegati erano già sotto sequestro patrimoniale perché nella disponibilità di Nicolo Testa già condannato per associazione mafiosa è deceduto lo scorso 7 novembre. Per i benestimati in circa 800.000 euro nella disponibilità da prima dello stesso test e successivamente dei suoi eredi è messo il provvedimento di confisca. La guardia di finanza di Caltanissetta e Gela con funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Porto Empedocle hanno sequestrato oltre 22.000 litri di gasolio non conforme ed infiammabile che stava per essere messo in consumo da due impianti di distribuzione a Gela e Niscemi segnalati alla procura di Gela due uomini per frode nell'esercizio del commercio. Cambiamo argomento Polizia di Stato e SAC insieme per fornire tanti consigli utili ai turisti che arrivano negli aeroporti di Catania e Comiso. Più sicurezza per i turisti informandoli e fornendo consigli utili è lo scopo di un'iniziativa che vede insieme Polizia di Stato e Aeroporto di Catania proprio presso lo scalette Neo così come in quello di Comiso verranno forniti dei flyer informativi sulla sicurezza. Da cosa fare in caso di furto e l'auto a dove lasciare la macchina presa a noleggio scegliendo parcheggi sicuri dall'evitare di portare oggetti di valore o portafogli a vista o di lasciare oggetti incustoditi e poi si ricorda ai turisti il numero di emergenza 112 regole che riguardano tutti a Catania come in altre parti d'Italia e nel mondo. Questa capacità di collaborare che stiamo dimostrando tra i vari enti e di istituzione questo secondo me è il modo e la strada che va percorsa per fare una buona sicurezza per Catania Lo scopo è dunque quello di garantire ai turisti una permanenza serena e sicura in quanto primo luogo di arrivo l'aeroporto infatti gioca un ruolo fondamentale nell'accoglienza dei turisti e nella diffusione di comportamenti corretti da seguire e quindi nella prevenzione Stare attenti accorti esattamente come succede alle altre parti civili del mondo è un messaggio sano che vogliamo dare che vogliamo mettere a disposizione tutti quei soggetti ovviamente prevalentemente stranieri o comunque che vengono dal nord Italia o dal resto dell'Italia che possono avere quelle minime precauzioni che possono fare sì di godere al meglio la propria vacanza la propria permanenza in Sicilia i flyer arriveranno anche tramite agenzie di viaggio e biglietteria Spiraglie per la soluzione del problema della chiusura della circonvallazione Asi di Pozzallo a intenzione di occuparsi nell'ex provincia Qualcosa si muove per la circonvallazione Asi di Pozzallo nel balletto delle competenze tra comune e regione si inserisce il libero consorzio comunale di Ragusa che si sta adoperando per risolvere il problema della chiusura una volta per tutte la priorità infatti è l'eliminazione del pericolo e dei disagi che da mesi patisce la collettività del versante pozzallese La competenza in questo momento non è nostra però stiamo lavorando affinché noi possiamo legalmente poter intervenire sono i cittadini che hanno diritto ad avere maggiore sicurezza e quindi sono le istituzioni che devono trovare il modo migliore per risolvere tutti quei problemi che ci possono essere di competenza o burocratici diciamo così per poter intervenire nella maniera più rapida ed efficace abbiamo avuto questo finanziamento di oltre un milione di euro nel pacchetto che abbiamo proposto per l'FSC 2127 per cui abbiamo già fatto diversi sopralluoghi i tecnici sono al lavoro per poter aumentare le condizioni di sicurezza della strada l'846 delle palazzine gli ACP di Modica risolto il problema degli ascensori non funzionanti un problema che si trascina da tre anni e che nelle ultime settimane si era acuito con il mancato funzionamento dell'unico ascensore funzionante a seguito del sopralluogo di ieri pomeriggio e delle interlocuzioni avviate dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa e la ditta che si occupa della manutenzione degli ascensori è stato finalmente risolto il disservizio di cui vi abbiamo parlato nelle precedenti edizioni del nostro telegiornale il condominio coinvolto era il 846 dell'OIACP di Modica in corso Sandro Pertini a comunicare il risultato ottenuto il presidente dell'OIACP di Ragusa Paolo Santoro dicembre si era intervenuto su questo ascensore che da qualche giorno ha creato di nuovi problemi ma avevamo provveduto ad impegnare circa 10.000 euro con un'altra determina per l'altro ascensore sempre presente in quel palazzo era già risolto il problema solo che la ditta ha ritenuto di non proseguire nel nuovo ascensore e lunedì immaginabilmente devono iniziare i lavori per mettere diciamo in funzione l'altro ascensore la riapertura di via Cavour a Vittoria nel tratto tra via Milano e via Firenze ieri abbiamo raccolto la denuncia della preside Angela Fisichella oggi arriva la replica del comune è l'assessore all'istruzione del comune di Vittoria Francesca Corbino a replicare alla dirigente dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII Vittoria Colonna Angela Fisichella che ieri ai nostri microfoni ha denunciato il comportamento del sindaco Francesco Aiello reo di avere emanato senza minimamente consultarla un'ordinanza con la quale modifica gli orari della ZTL di via Cavour nel tratto tra via Milano e via Firenze ossia quello in cui si trova la scuola che dirige l'obiettivo del comune pare sia quello di riaprire per permettere il transito delle auto per motivi di sicurezza evitando che quella zona continui ad essere ritrovo di malviventi quello è uno spazio che sicuramente urbanisticamente è più elegante come zona pedonale però una pubblica amministrazione si deve porre anche il problema della sicurezza dei luoghi delle numerose denunce che vi sono state di spaccio e di disordine di problemi di sicurezza di quei luoghi e quindi bisogna trovare una soluzione che concili i vari interessi dell'intera comunità quindi è necessario un tavolo di concertazione che stiamo istituendo il primo soggetto importante è la dirigente scolastica che rappresenterà l'intera scuola e chiaramente nell'interesse principale dei bambini e di tutti i cittadini e di tutti i residenti della zona trovare una soluzione quanto più condivisa qualche minuto di pubblicità torniamo tra pochissimo in apertura di seconda parte parliamo di rifiuti e polemica a Ragusa sulla chiusura dei centri comunali di raccolta al PD risponde il sindaco Peppe Cassì la chiusura di due centri di raccolta dei rifiuti su tre a Ragusa e la denuncia sollevata dal consigliere comunale segretario cittadino del partito democratico Peppe Calabrese vede l'intervento del sindaco Peppe Cassì che ferma qualsiasi allarmismo sul tema gli interventi agli impianti proseguono e in attesa della riapertura tra qualche settimana ci saranno i centri di raccolta mobili dislocati a Ragusa e Marina di Ragusa dove è possibile conferire i rifiuti che non possono essere conferiti nella raccolta porta a porta Quello che faremo in coincidenza con la chiusura di questi centri comunali di raccolta è quello di approntare dei centri comunali di raccolta mobili su ruote che possono assolvere la funzione che per qualche settimana non potrà essere assolta dai CCR normali E Cassì interviene anche sulla richiesta di Calabrese al cambio di delega dell'assessore Mario D'Asta al quale è stato affidato l'ambiente verde pubblico decoro transizione ecologica e servizi cimiteriali sulle richieste di togliere la delega all'assessore mi pare più il frutto così di una polemica politica perché noto il cattivo rapporto che c'è tra l'assessore in questione e coloro che hanno sollevato il problema ovviamente spero che su una materia che comunque è una materia delicata e importante non si facciano strumentalizzazioni e voltiamo decisamente pagina domani al vie gli esami di Stato con la prima prova uguale per tutti sono 46.292 giovani di licei istituti tecnici e professionali statali 41.952 e di scuole paritarie 4.340 che domani in Sicilia affronteranno la prima prova scritta dell'esame di Stato si parte con il compito di italiano le modalità sono identiche per tutti e avrà la durata di 6 ore i candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse le commissioni degli esami di Stato sono composte da commissari interni ed esterni e presiedute da un presidente esterno in Sicilia secondo i dati diramati dall'ufficio scolastico regionale sono 1.318 commissioni dei 46.292 candidati siciliani sono 23.009 quelli che si presenteranno alla prova nei licei 14.469 negli istituti tecnici e 7.928 nei professionali dei quasi 42.000 maturandi nelle scuole statali Palermo e Catania sono le province in cui si concentra il maggior numero con rispettivamente 9.948 e 9.537 studenti giovedì 20 giugno è fissata la seconda prova scritta mentre per le sezioni ESABAC ed ESABAC Tecno è prevista anche una terza prova scritta E a proposito di esami di Stato vi raccontiamo adesso una storia molto speciale quella di un'intera famiglia di maturandi madre, padre e figlia Saro di Rosa Enza di Giacomo Alice di Rosa rispettivamente padre madre e figlia ma in questo contesto anche compagni di studio sì perché domani tutti e tre saranno coinvolti dagli esami di Stato una storia curiosa che arriva dalla città di Modica noi li abbiamo incontrati come si viva a studiare con mamma e papà? Beh una novità perché non è da tutti i giorni non sempre studiamo insieme perché le materie sono diverse però quando ci possiamo aiutare ci aiutiamo Enza tutto parte da te sostanzialmente perché tu hai coinvolto nel tuo percorso di studi indirettamente tuo marito che ha accettato sì sì io ho pensato di iscrivermi a scuola perché all'epoca non avevo continuato i miei studi per diversi motivi lui vengo con te perché mi fa piacere e abbiamo intrapreso questi tre anni insieme Saro tu ti sei rimesso sui libri perché tu già un diploma lo avevi sì io l'ho preso venticinque anni fa quando Enza mi ha proposto di iscriversi a scuola gli ho detto io che faccio solo a casa e mi sono iscritto pure io a scuola ci chiamavano i professori insieme alla lavagna a sostenere le interrogazioni ci dicevano avvicinano i congiunti e così li interroghiamo sì qualche sacrificio l'ho fatto qualche ora di sonno nemmeno lo ce l'ho perché la notte dopo ritorno da scuola mi toccava fare qualche compito ripassare qualche lezione e così via Alice materia preferita storia quella che temi di più invece tra inglese e storie dell'arte mamma Enza che cosa pensa? allora per me quella che preferisco sono storie italiane sono le materie più forti quelle meno si teme un po' l'inglese e teme anche un po' l'economia aziendale e papà Rosario allora invece che cosa pensa? qual è la materia preferita e quella che si teme di più per questa maturità? quella preferita è l'economia aziendale anche perché per me lavoro da quasi più di vent'anni temo l'inglese anche io insomma capiamo che l'inglese è il tallone d'Achille della famiglia di Rosa ecco ormai non esiste più la tesina però potete presentare un vostro elaborato che viene chiamato capolavoro tu cosa hai scelto? allora io ho scelto un video sul viaggio della memoria che avevo fatto l'anno scorso con la scuola il mio capolavoro parla di un video ho fatto un piccolo elaborato di un video di tutti i bambini anche perché comunque ho collaborato e collaboro quando posso con la scuola calcio quindi ho presentato questo piccolo elaborato quello davvero curioso è l'elaborato di Saro perché Saro è il nostro responsabile dell'ufficio amministrativo non lo abbiamo svelato lo sveliamo alla fine di questo servizio tu di che cosa parli? io ho fatto la storia di video mediterraneo da quando è nata fino a tempi dolci a questo punto speriamo che ti porti fortuna auspicio chi avrà il voto più alto? parla solo Alice per tutti papà e in bocca al lupo allora alla famiglia di Rosa e a tutti i 46.000 maturandi siciliani noi adesso andiamo avanti con le notizie oltre 30.000 euro raccolti con l'evento benefico un gol per la solidarietà a Catania è stato scelto il lungomare di Acitrezza dove tre anni fa venne uccisa l'ex finanzato Vanessa Zappalà come luogo simbolo per consegnare un'importante cifra all'associazione Tamaya Ollus per sostenere le iniziative che porta avanti per difendere le donne vittime di violenza a consegnare questa cifra Luca Napoli organizzatore della manifestazione un gol per la solidarietà che per l'edizione 2024 ha voluto accendere un riflettore proprio su questa delicata tematica lo scorso 24 aprile infatti si è scese in campo proprio contro il femminicidio oltre 30.200 euro raccolti che sono andati sia alla Tamaya Ollus che alla Caritas di Ocesana tutto ciò a sottolineare come bisogna essere coesi per contrastare fenomeni così brutti noi in questa manifestazione quest'anno abbiamo fatto il possibile avevamo un solo strumento per poter contrastare il femminicidio ed era la sensibilizzazione di tutti gli studenti catanesi e questo siamo riusciti a fare una raccolta grandiosa record per l'evento quindi contenti di avere avuto una squadra una città intera che ci ha appoggiato per poter dare questo grossissimo risultato è una battaglia che ci deve vedere coinvolti tutti perché nessuno si può voltare dall'altra parte nessuno si può considerare escluso dal contrastare in maniera efficace questa pericolosa deriva della violenza contro le donne presente alla consegna anche il papà di Vanessa è una cosa che non passerà mai una ferita che rimane per sempre una cosa atroce la vita ci insegna che dobbiamo andare avanti non c'è niente da fare tutto quello che possiamo fare per il futuro magari si servirà qualcosa per gli altri presentato il Palermo Pride 2024 Il tema di quest'anno è la violenza maschilista e prende spunto proprio dei fatti del luglio scorso al Foro Italico il Pride di Palermo si terrà sabato prossimo con concentramento in Via Roma madrine di quest'anno saranno Big Mama e l'attrice Simona Malato la presentazione oggi è la presenza della coordinatrice Daniela Tomasino e del sindaco Roberto Lagalla se ho i diritti e chi mi sta attorno non ne ha i miei diritti diventano privilegi e questo è il senso del Pride per questo noi scendiamo in piazza ha detto la Tomasino il Pride è una festa una festa identitaria che la città accoglie la città deve saper ascoltare ha detto invece il sindaco della città di Palermo Roberto Lagalla inizio previsto per le 15 di sabato prossimo in Via Roma sfileranno 11 carri due trenini e durante il corteo che si snoderà appunto per la Via Roma per Via Cavour per poi arrivare in Via Ruggero VII e infine ai cantieri culturali alla Zisa sono previsti anche una serie di flash mob è tutto per questa edizione MTG torna alle 20 e 30 buona giornata